Mettilo sotto pressione facciamogli commettere un errore Sei all'ultimo giro Regolare mi dicevano ragazzi Sorpassiamo l'Airpex Vampy ragazzi Sono scorretto devo lasciare lo spazio Ah si io sono scorretto e loro? Tanto comunque alla fine dei conti anche se mi avessero passato avrebbero comunque preso il cazzo e sarebbero stati dietro Report F1 Ricky bottagli alla cura per difendere se poi succede Succede Madonna Dici che è un po' esagerata come staccata Andiamo un po' Sì sì decisamente direi direi molto esagerata pallone cuoio non farlo più Il tuo distacco dalla vettura che ti segue aumenta di un secondo a giro Grazie a tutti Vuole essere aggressivo Mattia Allora saremo aggressivi C'è Gabbrox dietro eh Occhio Monteremo gomme medie Hai perso qualche decimo di vantaggio sulla vettura che ti segue Attenzione Ci aspettiamo una perdita di aderenza da un momento all'altro Io posso dire di non avere parole Ovviamente uno scontro Uno scontro lì davanti E il sottoscritto deve sempre prendere la merda addosso figurati Cioè Non c'entravo niente contro di lui Pensi di poterci riuscire Attiva la modalità sorpasso e mostrati che pasta sei fatta Bello che sorpasso Io sto per quittare ragazzi Sappiatelo Stavo veramente tanto bene quando Quando stavo senza Formula 1 ragazzi Ve lo posso dire Mi divertivo così tanto Adesso devo streamare qualcosa che proprio non mi piace Questo è quanto ragazzi Signori Stacco Mi dispiace Ci vediamo domani Ciao 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 Ciao